Noi siamo qua all'Azisse, lago di Garda, nel Hotel Quellerhof. L'albergo è appena stato fatto, abbiamo aperto a fine di marzo quest'anno. Abbiamo costruito più o meno in 13 mesi questo albergo, è un albergo di cinque stelle, è un albergo di lusso, è uno dei pochi alberghi di questo livello al lago di Garda, per cui è venuta una bellissima struttura. Noi abbiamo fatto la richiesta per avere Corrente in albergo già un anno fa e non andava perché dovevano fare lunghi passaggi con le linee, con i cavi, tutto quanto e allora abbiamo dovuto di noleggiare delle macchine per fare la Corrente. Abbiamo noleggiato due macchine della Caterpillar e stanno andando adesso da marzo, mi sembra, da fine di marzo. Stiamo facendo Corrente con queste macchine. Abbiamo già avuto altre macchine da CGT che abbiamo noleggiato e allora abbiamo noleggiato anche queste macchine da loro perché abbiamo saputo che sono puntuali. Abbiamo avuto delle esperienze bene per cui abbiamo scelto di nuovo CGT. Per un albergo da cinque stelle come il nostro qua deve funzionare sempre, deve funzionare al 100%, per cui non si può fare esperimenti. Abbiamo scelto CGT perché abbiamo saputo che è una dita che è in gamma, che al 100% funziona bene. Penso che abbiamo trovato la scelta giusta e questo è importante.